Anche Sulmona proderà Click Lavoro, lo sportello che permette di facilitare la ricerca di occupazione. In una realtà sempre più martoriata dalla crisi, la Palazzo San Francesco già ha individuato un dipendente che si occuperà di gestire la piattaforma online, dove aver seguito un apposito corso di formazione. Ad annunciare l'assessore a sociale del comune di Sulmona, Mariella, Iommi. Le richieste di lavoro e di aiuti di ogni genere sono in costante aumento, conferma l'assessore a sociale, vice sindaco, sia da giovani che da oltre 50 anni. Da qui il nostro sforzo è intercettare tutte le linee possibili di finanziamento regionale e nazionale. Nel frattempo stiamo provvedendo all'attivazione di uno sportello dedicato alla ricerca del lavoro nei limiti delle nostre competenze. Click Lavoro è una piattaforma digitale che consente di ingrociare domanda e offerta mediante il caricamento di curricula. Uno strumento utile per ogni amministrazione che serve a intercettare i reali bisogni di lavoro e a farli conoscere alla popolazione, soprattutto a coloro che hanno fatto richiesta. A gestire lo sportello sarà un dipendente del comune di Sulmona, dove aver seguito un corso di formazione.